ciao a tutti qui per ricordarvi l'appuntamento di questo sabato 7 dicembre che aprirà la casa di babbo natale non sono sola sono qui con cannella 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 devi dare l'appuntamento di sabato che apre la casa di babbo natale lo devi dire tu dai metti lì sabato e 7 questo sabato alle 16.30 ci sarà l'inaugurazione della casa di babbo natale dirgli anche dove così qui a trezzano esatto in via vittorio veneto 30 alla sala.expo e ci sarà panettone succhi giusto per tutti esatto per tutti quindi vi aspettiamo qui sabato 7 dicembre 16.30 via vittorio veneto 30 sala.expo trezzano ciao